Ciao ragazzi, andiamo a vedere questa nuova missione di un carico settimanale raggiungi gli scudi massimi a un tempio quindi dovremmo semplicemente andare a rifullarci a un tempio ragazzi quindi prendiamo il tempio, scendiamo e andiamo a dare una controllata in giro fino a che non troviamo qualche shield, shieldone, shieldini e incominciamo ad incamerarli apriamo, ecco qui, incominciamo a prendere i shieldini che possiamo tranquillamente farci qui o altrove l'importante è non arrivare al massimo da un'altra parte quindi ci siamo fatti i shieldini fino a 50 controlliamo in giro, prendiamo i cura bomba e ce li mettiamo nell'armamentario, quindi nell'inventario prendiamoci anche i shieldini, possono servire continuiamo a cercare ragazzi ok, intanto ci possiamo sparare i cibi in villa sempre non dobbiamo arrivare a 100, mi raccomando sfondiamo anche qui, vediamo se c'è qualcosa sì, c'è un cocco, benissimo spariamoci pure il cocco facciamoci un attimo due conti, 70 manca poco, manca 30 quindi abbiamo 40 di cura bomba prendiamo e ci dirigiamo verso il tempio una volta arrivati al tempio, con calma e tranquillità ragazzi, ci spariamo in cura bomba ed ecco qui, siamo arrivati a 100 la missione raggiungi gli scudi pieni a tempio è stata portata avanti l'abbiamo finita ragazzi, per questa missione è tutto io vi saluto e ci vediamo alla prossima mi piace, condividete e iscrivetevi al canale grazie a tutti